Amici buongiorno, questo è il nostro primo blog, oggi assieme a Rocco vi mostreremo come cambiare una lampadina che spesso in questo negozio ci viene chiesto. E quindi armiamoci di cacciavite e vediamo come agire su una lampada halogena normale. E' un tipo di lampadina che si trova in due formati, esiste la lineare lunga e la lineare corta, noi andremo per il momento a guardare come si sostituisce la lineare corta. Ecco come vedete sono state tolte le coperture sul davanti e abbiamo la lampadina a vista. Ora prendendola con le mani, spingendo, proviamo a rifarlo un attimino così vediamo, sono due molle che spingono internamente la lampadina, quindi noi prendiamo la lampadina, vedete che si muove, aiutiamo con la mano sinistra ed è tolta. A questo punto possiamo buttarla, d'accordo? Prendiamo la lampadina che dobbiamo sostituire, che è questa, che abbiamo noi già tagliato, il formato è questo, esistono di vari tipi di marche, costano dai 2 ai 4 euro, ormai anche convertibili a led, montiamola pure tenendola con le mani, dopo andremo a pulirla. la reinfiliamo come prima, proviamo a vedere se funziona, ecco che la sostituzione è stata fatta, in questo caso abbiamo messo su una lampadina ecologica da 80 watt che rende per cento, quindi è una lampadina che consuma il 20% in meno, certo non siamo a livelli dei led, possiamo tranquillamente rimontare la copertura del cristallo della lampada e praticamente abbiamo finito il lavoro, il tutto in meno di 2 minuti e quindi penso che è un lavoro che può fare chiunque, è chiaro che prima di fare questo andremo a staccare la corrente per essere più sicuri e comunque la presa a terra ci lascia comunque un ottimo margine di sicurezza, proviamola ancora un attimo, eccola qua, grazie a poco e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.